Ho scelto GIA perché poter condividere le esperienze degli altri associati ci aiuta a trovare sempre nuovi stimoli. Come me crede nell'importanza della sinergia tra piccole e medie aziende nell'affrontare i mercati internazionali. Mi ha dato supporto per la partecipazione al bando start-up. Per noi che siamo innovativi e vogliamo crescere, l'accesso al credito è estremamente importante. Grazie a tutti.